Siamo in compagnia di Sergio Romano, allora Sergio, al di là del risultato siete soddisfatti della vostra prestazione? Penso di no, nel senso che alla fine queste competizioni reggere a livello di testa e portare a casa la partita è molto importante, ma dobbiamo essere più bravi a tenerla, dobbiamo essere più bravi in momenti cruciali. Da un lato siamo stati secondo me molto compatti ad arrivare fino alla fine, dall'altro dobbiamo lavorare, ma io penso che potrebbe essere un buon segnale questo e abbiamo un giorno per recuperare e poi ripartire. Pensate di avere le carte in regola per fare l'edito dell'anno scorso? Noi siamo venuti con questa idea, abbiamo raggiunto la qualificazione verso la fine, adesso siamo qua, siamo in un buon momento, siamo tanti, questo diciamo sui giorni potrebbe fare la differenza e siamo qui per giocarcela, poi il campo questo sport è pazzo, quindi ci saranno molti fattori importanti che ci può fare.